Radio Time e Raph DJ, in esclusiva con la BBC, presentano New York Time, Radio Mix Show, edizione straordinaria. Il 22, 23 e 24 novembre, a mezzanotte, Legend of the Dance Floor e Piece of Paradise. Un'esclusiva registrazione del 1978 from Radio WBLS, live dal Paradise Garage Club di Manhattan. Dal club che ha segnato le origini della dance music di tutti i tempi, con il suo resident DJ, Larry Levan. In onda il 22, 23 e 24 novembre, da mezzanotte, solo su Radio Time.